Le difficoltà del settore non sono di carattere burocratico e istituzionale solamente, sono anche di altro tipo, purtroppo ben più difficili da sradicare, perché parliamo di difficoltà concettuali, difficoltà ideologiche soprattutto. Si può dire che bisogna procedere a una revisione della normativa che vige nel settore, quindi è importante che questa legge, già ormai vecchia, è stata anagraficamente di 33 anni, ma siamo all'area geologica se consideriamo l'evoluzione dei tempi e quindi quello che è sotto gli occhi di tutti, perché possiamo fare in modo che la nostra industria sia competitiva e sia possibile per lei esportare quanto dovrebbe e quanto potrebbe. Il nostro paese deve provvedere alla sicurezza dei propri cittadini, provvedere alla sicurezza significa edificare una struttura che è fatta anche di armi, perché così si provvede alla sicurezza. Se questo concetto viene acquisito, di conseguenza avviene tutto il resto che sono anche le attività di esportazione.